Musica Operazione Crimata, la Guardia di Finanza sequestra beni per un milione e mezzo di euro a Crotone, Isola Caporizzuto e Cutro. La regione Calabria presenta il piano di rilancio delle terne luigiane. Stop al rito dei vattienti durante la settimana santa a Nocera Terinese. Donata al comune di Mileto la statua del conte Ruggero d'Altavilla. Salve e ben ritrovati con l'informazione di Calabria TV. Operazione Crimata, la Guardia di Finanza di Crotone sequestra beni immobili e immobili per un valore di circa un milione e mezzo di euro nei confronti di sette soggetti indagati per frode fiscale e riciclaggio. Lo scorso mese di gennaio, con l'operazione Crimata, il Nucleo di Polizia Economica Finanziaria della Guardia di Finanza di Crotone aveva eseguito, sia nel capoluogo pitagorico che Isola Caporizzuto, un'ordinanza di misure cautelari e personali nei confronti di sette soggetti con l'accusa di associazione per delinquere finalizzata alla frode fiscale, riciclaggio, impiego di utilità di provenienza illecita e trasferimento fraudolento di valori. Ora, gli stessi finanzieri hanno dato esecuzione ad un'ordinanza di sequestro beni immobili e immobili per il valore di 1.500.000 euro nei confronti degli stessi soggetti, in quanto il giudice ha riconosciuto la gravità indiziaria delle accuse a loro ascritte. Il sequestro preventivo che è stato emesso dal giudice per le indagini presi eliminari è stato adottato nella prospettiva della futura richiesta di confisca, anche nella forma per equivalente, di somme di denaro e beni per un valore di un milione e mezzo, e si riferisce all'ipotizzato profitto illecito che sarebbe stato conseguito attraverso imprese dette cartiere operanti nel settore edile, anche intestate a pressa nome, le quali, mediante fatture per operazioni inesistenti, avrebbero consentito di generare un notevole risparmio di imposta che sarebbe stato poi monetizzato. Il sequestro riguarda 5 immobili, 2 terreni, un'attività commerciale nel settore della somministrazione di alimenti e bevanti e tutti i rapporti bancari intestati e riconducibili agli indagati. Operazioni Crisalite 3 contro l'Endrine e l'Ametine. Confermate 31 con danni in appello, pene ridotte per 20 dei 31 imputati. Crisalite 3 arriva alla sentenza di secondo grado. La Corte d'Appello si è infatti pronunciata in merito al processo scaturito dall'operazione condotta nel 2020 dalla DDA di Catanzaro e dai militari dell'arma contro la cosca Cerra Torcasio Gualtieri. I giudici della seconda sezione penale, Presidente Antonio Giglio, consigliere all'Atere Maria Rosaria Di Gerolomo e Barbara Sacca hanno rideterminato le pene inflitte nella sentenza di primo grado e altre confermate. In particolare, la Corte ha confermato 13 condanne emesse in primo grado, mentre altre sono state rideterminate e altre ancora modificate sulla base del concordato richiesto dalle parti. Inoltre, alcuni imputati, Salvatore Fiorino e Saverio Torcasio, sono stati assolti da alcuni capi di imputazione, mentre i giudici hanno dichiarato il non luogo a procedere per Rosario Franceschi in relazione a due capi di imputazione. Nello specifico, le pene rideterminate o modificate sulla base della richiesta di concordato riguardano Salvatore Fiorino, che è stato condannato, a 8 anni e 2 mesi di reclusione, Saverio Torcasio, a 8 anni e 6 mesi di reclusione, Rosario Franceschi, a 7 anni e 11 mesi e 20 giorni di reclusione e 24.525 euro di multa, Giuseppe Costanzo, a 2 anni e 8 mesi di reclusione e 11.555 euro di multa, Nicolás Izzo, a 7 anni e di reclusione, Antonio Franceschi, a 5 anni e 10 mesi e 26.000 euro di multa, Francesco Gigliotti, a 7 anni e 10 mesi, Antonio Lapolla, a 1 anno e 4 mesi, Antonio Miceli, a 11 anni e 66.000 euro di multa, Carlo Sacco e Filippo Sacco, a 1 anno e 6 mesi e 4.000 euro di multa, ciascuno, Luigi Vicenzini, a 7 anni e 8 mesi, Antonio Saladino, a 13 anni e 11 mesi, Davide Belville, a 10 anni, Pasquale Caligiuri, a 10 anni e 6 mesi e 10 giorni, Domenico De Rito, a 9 anni e 3 mesi, Morrison Alessio Gagliardi, a 11 anni e 7 mesi e 10 giorni, Massimo Gualtieri, a 8 anni e 7 mesi e 10 giorni, Antonio Paola, a 8 anni e 10 mesi e 10 giorni e Teresa Torcasio, a 10 anni e 2 mesi e 20 giorni. La Corte d'Appello ha anche deciso di non doversi procedere per Nicola Gualtieri in ordine ai reati, ascrittigli perché estinti per morte dell'R.O. Nel corso dell'esecuzione degli arresti connessi all'operazione Olimpo, all'esito delle indagini dirette dalla Procura della Repubblica della DDA di Catanzaro, che ha portato la Polizia di Stato all'applicazione di 41 custodie cautelari in carcere e 15 misure degli arresti domiciliari, oltre al sequestro di beni per un valore complessivo di circa 250 milioni di euro, erano stati reinvenuti i 92.300 euro in contanti all'interno dell'abitazione di uno degli indagati per diversi delitti, quale estorsione e illecita concorrenza commessa mediante violenza e minaccia aggravati dal metodo mafioso. Il Tribunale di Catanzaro, sempre su richiesta della DDA del capoluogo di regione guidata da Nicola Gratteri, ha ordinato l'applicazione del sequestro preventivo dell'ingente somma di denaro. Conferenza stampa alla Cittadella regionale per il piano di rilancio delle terne luigiane. La società partecipata Terme Sibarite acquisirà l'intero compendio termale, protocollo di intesa tra Terme Sibarite, i comuni di Acquapesa e Guardia Piemontese per la realizzazione di interventi di ammodernamento. Ritengo proprio di sì, perché l'anno scorso, durante la stagione estiva, che purtroppo è cominciata in ritardo alle terme luigiane perché è cominciata a fine luglio, il 28 di luglio, si è prodotto comunque un risultato di gestione positivo. Quest'anno comincerà la stagione a fine maggio, come deve essere ogni anno, e quindi ci aspettiamo un risultato di gestione ancora migliore. La dimostrazione del fatto che anche le gestioni pubbliche possono essere efficienti e possono servire a trasformare degli episodi che sarebbero diventati di archeologia industriale in imprese produttive al servizio dello sviluppo turistico della regione. Sicuramente sì, perché sono orgoglioso del risultato che ho prodotto. Il primo disegno di legge che ha presentato Calderoli prevedeva la possibilità di fare le intese per l'autonomia differenziata anche prima di definire i diritti sociali e civili secondo i fabbisogni standard. Quindi prevedeva che si consolidasse l'ingiusto criterio della spesa storica nei trasferimenti alle regioni e ai comuni. È un criterio per il quale il Sud ha sempre perso tanti miliardi a vantaggio del Nord. Ho chiesto di modificare il testo, le mie richieste sono state accolte. Oggi non si potranno fare intese per l'autonomia differenziata se prima non vengono definiti i diritti sociali e civili secondo i fabbisogni standard. Quindi, traducendolo, non si potranno fare intese per l'autonomia differenziata se prima 70, 80, 90 miliardi, come dice lo Svimez, non verranno trasferiti al Sud. Mi pare che sia un risultato estremamente apprezzabile che dovrebbe essere apprezzato anche da quelli che per tanti anni si sono lamentati del fatto che i trasferimenti avvenissero secondo il criterio della spesa storica e oggi, che grazie ad un mio emendamento che ha trasformato il testo di legge questi trasferimenti si prevede che avvengano secondo i fabbisogni, dovrebbero festeggiare. Terme Sibarite ha esercitato il diritto di opzione per procedere all'acquisto del ramo d'azienda un tempo fin qui detenuto legittimamente da Sateca. Questo vuol dire che le strutture che Terme Sibarite ha esercitato in fitto adesso attraverso le procedure di legge entreranno a far parte del patrimonio di Terme Sibarite una svolta in direzione della Costituzione del Polo Termale Regionale. Con il protocollo di intesa sottoscritto invece con i comuni la gestione di Terme Sibarite sarà estesa anche alla parte pubblica del compendio delle Terme Luigiane e in particolare allo storico stabilimento San Francesco che dovrebbe essere nelle intenzioni oggetto di recupero strutturale e poi subito dopo essere restituito alla sua piena funzionalità in un periodo temporale che è stato stimato adesso nell'arco dei tre anni. Terme Sibarite sulla base del protocollo di intesa si impegna a riconoscere naturalmente un canone per le strutture che saranno concesse in utilizzo a sostenere i costi del canone per le acque. Naturalmente c'è un'altra gamba fondamentale di questo tavolo che è la Regione Calabria che si è impegnata con i comuni e con Terme Sibarite stessa a reperire le linee di finanziamento necessarie alla riqualificazione e ristrutturazione di questi immobili. Sì, senza dubbio. Si intervisa questa strada che è la strada giusta sia perché risolve tutti quelli che sono stati o potevano essere i problemi a livello occupazionale e risolve anche tutti quelli che sono i problemi a livello economico perché la Regione Calabria si è impegnata, come ho già detto prima a fare insieme ai comuni questo piano strategico di riqualificazione dell'intero convento termale di cui già abbiamo i primi risultati, i 520 mila euro di cui ho parlato che fanno parte appunto di investimenti sulla parte pubblica, quindi di proprietà dei comuni e oltre a questo ovviamente il vantaggio delle comunità e delle amministrazioni comunali sono quelle dell'indotto, dello sviluppo occupazionale, dell'implementazione dei livelli occupazionali oltre che ovviamente dal punto di vista economico perché con il canone fissio di 75 mila euro annui più le percentuali sul fatturato delle attività termali e poi dello stabilimento San Francesco una volta ristrutturato ovviamente ci saranno degli introiti per le amministrazioni comunali che ovviamente verranno reinvestiti sul territorio e sul territorio tutto dei due comuni Io sono molto soddisfatto del risultato ma anche per le nostre comunità che ci hanno sempre sostenuto e dato fiducia per queste questioni termali che ha durato decenni l'ora Quasi un chilo e mezzo di droga è stato sequestrato dalla polizia ad un 44enne di Cosenza con precedenti arrestato per detenzione e spaccio di stupefacenti durante una perquisizione a casa dell'uomo gli agenti hanno infatti trovato poco meno di 84 grammi di cocaina 29 grammi di hashish, quasi un chilo e 300 grammi di marijuana nell'abitazione dell'uomo inoltre c'era del materiale utile per il confezionamento e la pesatura e del denaro in contante 550 euro in banconote di piccolo taglio che si ritiene e siano provento di attività di spaccio Il quarantenne è stato quindi arrestato e trasferito nella casa circondariale di Cosenza Presso Union Camera alla Mezzia Terme si è tenuto un convegno promosso da Desk Enterprise Europe Network di Union Camere Camere di Commercio Calabresi e ICE Agenzia dove hanno sottoscritto un'intesa operativa per sostenere in maniera sinergica i processi di internazionalizzazione del tessuto imprenditoriale calabrese Il progetto Export Flying Desk nasce per riportare l'ICE Agenzia sui territori perché dopo il 2011 quando l'ICE ha perso la rete degli uffici regionali si è un po' perso il contatto con le realtà territoriali quindi l'obiettivo dell'Export Flying Desk dal 2019 è quello di avvicinare nuovamente l'ICE Agenzia alle aziende sui propri territori per poterle conoscere direttamente e per poter intercettare le esigenze delle singole aziende perché chiaramente le piccole e medie imprese soprattutto le micro e piccole e medie imprese che hanno più difficoltà ad approcciarsi ai mercati esteri e quindi hanno più necessità dei servizi di supporto del sistema Italia quindi la collaborazione di ICE Agenzia con i partner del territorio con le Camere di Commercio in questo caso ma anche con Confindustria piuttosto che con le regioni consentono di mettere in campo un apporto sinergico di tutti gli stakeholder del sistema Italia per ottimizzare l'intervento che lo Stato fa a favore delle piccole e medie imprese per favorirne la crescita a livello internazionale quindi per favorire l'export e per favorire chiaramente tutto il sistema Italia Sì, questo è un accordo oggi che presentiamo voluto da Union Camera dal sistema camerale calabrese insieme a ICE ovviamente per dare opportunità al sistema imprenditoriale calabrese per cercare di internazionalizzare sempre di più le nostre aziende diciamo che l'export in Calabria cresce negli ultimi anni e cresce anche a doppia cifra cresciamo del 29% quindi questo fa ben sperare perché i nostri imprenditori stanno investendo tanto nell'interno delle proprie aziende stanno investendo nella digitalizzazione e stanno investendo nella formazione con questo accordo ovviamente noi il sistema Union Camera il sistema camerale insieme a ICE darà supporto ai nostri imprenditori cercando di trasmettere loro quelle che sono le opportunità che il sistema camerale offre che l'ICE offre questo accordo prevederà anche la presenza di un funzionario ICE all'interno delle camere di commercio delle tre camere di commercio dove insieme ai nostri funzionari daranno ai nostri imprenditori tutte quelle che sono le dritte necessarie per far crescere per presentare meglio la propria azienda in un mercato internazionale e ora cambiamo argomento i riti religiosi della settimana santa sono celebrati con solennità in quasi tutto il mondo cristiano vediamo come si preparano a Crotone stiamo per entrare nella settimana santa dove si rinnovano tra fede e tradizione i riti della croce che portano poi alla resurrezione del Cristo un ricco calendario presso la basilica cattedrale parrocchia San Dionigi guidata dal parroco Monsignor Alessandro Saraco mentre venerdì 31 marzo la via Crucis per la pace per le vittime delle immigrazioni presso la villa comunale sì, infatti abbiamo pensato di organizzare la via Crucis per pregare innanzitutto per la pace nel mondo in particolare perché possa terminare a più presto il conflitto in Ucraina e poi anche ricordando particolarmente le vittime di tutte le immigrazioni e in modo speciale le vittime dell'ultimo naufragio a largo di Steccato di Cutro a tal proposito la croce della settimana santa accompagnerà questi giorni non dimenticando ciò che è avvenuto sulle spiagge di Steccato di Cutro sì, il giorno della via Crucis venerdì 31 marzo all'ingresso della villa comunale noi accoglieremo la cosiddetta ormai croce dei migranti quella croce che è stata realizzata con i resti del balcone che è naufragato e con questa croce noi pregheremo la via Crucis e poi la croce rimarrà fino a domenica 2 aprile in cattedrale perché la esporremo anche durante la celebrazione eucaristica delle 10 presieduta dal nostro arcivescovo al termine della celebrazione verrà una delegazione della diocesi di Molfetta perché la croce dalla domenica 2 aprile pomeriggio fino al 23 aprile rimarrà nella diocesi di Molfetta per alcuni momenti di preghiera che sta organizzando quella diocesi nella settimana santa poi inoltre fulcro delle cerimonie sarà anche la lavanda dei piedi con i tradizionali sepolcri nel centro storico di Crotone che richiamano sempre tanta gente e tanta devozione così antica ma sempre nuova sì, qui in cattedrale la messa in cena domini sarà celebrata alle ore 18 dal nostro arcivescovo con la partecipazione dei bambini del catechismo e particolarmente i bambini della prima comunione faranno i dodici apostoli quindi l'arcivescovo laverà i piedi di dodici bambini che quest'anno per la prima volta riceveranno Gesù sacramentato e poi il venerdì l'adorazione della croce fino ad arrivare alla Pasqua qual è l'augurio che le rivolge ai fedeli della Basilica Cattedrale Parrocchia San Dionigi l'augurio è quello di credere sempre di più che la potenza della risurrezione è all'opera nella nostra vita nella vita della Chiesa e nella vita del mondo Gesù risorto è il fondamento della nostra gioia e della nostra speranza quindi anche se stiamo attraversando dei momenti difficili a livello personale a livello sociale però mai perdere la speranza che Gesù risorto è con noi non ci abbandona e ci darà la forza per affrontare tutto e soprattutto anche per accogliere la fatica del credere e del vivere a Caolonia nel Regino invece i manifesti con il programma della Settimana Santa sono stati strappati dai gnoti indignazione da parte del parroco siamo alle solite un fatto increscioso avvenuto a Caolonia persone non identificate hanno strappato alcuni manifesti murari che erano stati affissi da poco con cui si rendevano noti gli appuntamenti della Settimana Santa l'episodio ovviamente è stato denunciato sui canali social del parroco di Caolonia Don Antonio Magnoli dice il prete il vostro posto a scritto Don Antonio è al circo tra i pagliacci e lo sterco degli animali siete gentaglia che non vuole il bene del proprio paese ma la distruzione dunque lo strappo del manifesto della Settimana Santa è un chiaro segno di inciviltà che va condannato ad ogni livello il parroco ha tenuto a ringraziare il vescovo di Locri Gerace Monsignor Francesco Oliva per la vicinanza e la condivisione della condanna un grazie dice Don Magnoli anche a tutta la comunità coloniese che si è espressa in modo fermo contro l'episodio ma per Caulonia questi gesti non sono una novità anche in passato c'erano stati tanti diverbi legati ovviamente ai Santi al Santo Padrono e nel periodo pasquale addirittura legato alle varie fazioni delle arci confraternite che partecipavano al tradizionale caracolo che lo ricordiamo si terrà il sabato prima di Pasqua e salterà anche quest'anno il rito dei vattienti a Nocera Terinese nel Catanzarese la tradizionale celebrazione che ha luogo proprio nel periodo pasquale è stata vietata dalla commissione straordinaria che guida il comune perché giudicata in assoluto contrasto con le primarie esigenze di tutela della salute pubblica e salubrità dell'ambiente si tratta di un non provvedimento che sta suscitando non poco dibattito nel comune e fra tutti gli appassionati dai riti pasquali anche in considerazione del fatto che la manifestazione manca a Nocera ormai da anni a causa anche dell'emergenza pandemica una statua raffigurante il conte Ruggero realizzata dall'artista vibonese Antonio Lagamba è stata donata alla cittadina di Mileto da Domenico Sorace con parte dei ricavi di un libro da lui pubblicato si arricchisce il parco archeologico di Mileto Antica e lo fa con un monumento dedicato a Ruggero I d'Oltavilla opera dell'artista Antonio Lagamba un momento di recupero della memoria normana nella città Mileto che è proprio Ruggero elessi a capitale la sua realizzazione è stata possibile grazie alla donazione dello scrittore Domenico Sorace e rappresenta la prima opera artistica posta dall'uomo all'interno del parco archeologico medievale sua tonizzazione della sovrintendenza creandosi così attraverso l'arte un legame concreto e diretto trapassato e presente come nasce quest'opera? quest'opera come dicevo prima nasce dall'amicizia Domenico presentava questo libro qui mi ha chiesto perché non vieni che se ti viene in mente qualcosa mi chiami alla fine della presentazione e lo facciamo vedere ti giuro lui ha raccontato la storia dei Normanni di San Bruno eccetera io a un certo punto inizio a disegnare a fine presentazione faccio vedere questo lavoro che la gente pensava forse che ne avessimo parlato prima invece non era vero e gli ho detto immaginate proprio in questo spazio come se queste figure nascessero dal terreno e prendessero forma perché se tu vieni a visitarlo e non hai una guida fai fatica a immaginare cosa può rappresentare questo luogo invece se c'è un qualcosa che te lo racconta io l'ho visto anche quasi in maniera didascalica e didattica in modo tale che quando vengono le scuole oltre a vedere quel poco che è rimasto possano immaginare possano sognare quello che effettivamente è stato un luogo importantissimo dal punto di vista storico ma magico dal punto di vista proprio dell'emozione alla fine dell'evento Antonio Lagamba ha fatto vedere il bozzetto e io ho promesso al pubblico al sindaco che era presente a tutte le autorità che tutto il ricavato del libro sarebbe stato destinato per la realizzazione di un'opera d'arte abbiamo promesso abbiamo subito ci siamo attivati e attraverso anche una sinergia con la soprintendenza dei beni archeologici che ha dato poi l'autorizzazione per l'impianto ecco siamo arrivati all'impianto dell'opera e a questo punto che secondo me è simbolicamente interessante questo parco è stato oggetto di depredazione negli anni nei secoli ci sono pochissime testimonianze rispetto alle grandiosità che erano presenti oggi visibili perché sono state sottratte questa è la per la prima volta si dà corpo ad una restituzione a questo territorio di un'opera alla quale penso spero che la comunità di Mileto la comunità regionale in generale saprà far seguire altre opere in modo che ciò che è stato sottratto possa essere restituito nel tempo è una bellissima notizia è un evento che è bello veramente noi abbiamo colto come questo segno di generosità che veniva dall'avvocato Sorace e anche dall'artista Antonio Lagamba che ha voluto creare quest'opera che è un'opera importante per il lato artistico ma anche per il fatto che su questo sito è la prima opera d'arte moderna diciamo così fatta comunque nella contemporaneità che viene apposta da uomini su questo sito del Parco Archeologico Medievale di Mileto Antica e continuano gli appuntamenti con le donne speciali della Calabria a Vivo Valencia sono state ricordate la psicologa Titti D'Amico la serva di Dio Irma Scrugli e l'eroina medievale Diana Recco continuano gli appuntamenti del festival Calabria delle donne in provincia di Vivo Valencia dopo aver ricordato il notaio Mariolina Palermo è toccato ad altre tre donne ad essere celebrate e fatte conoscere ad un pubblico più ampio donne che si possono definire speciali per il loro modo di essere e per il loro agire la psicologa Titti D'Amico la serva di Dio Irma Scrugli grazie alla collaborazione con il Rotary Club di Vivo Valencia e Diana Recco l'eroina medievale che vendicò i sette varteri monteleonesi in sinergia con il liceo classico Michele Morelli Titti D'Amico psicologa clinica e psicoterapeuta ha sempre associato l'attività clinica e l'insegnamento sia nella formazione professionale sanitaria della regione sia presso diverse università è sempre stata sensibile alle tematiche sociali e all'affermazione dei diritti civili con particolare attenzione alle tematiche della famiglia mentre Irma Scrugli fu la cofondatrice con Don Mottola della famiglia degli Obliati e delle Oblates del Sacro Cuore un istituto secolare eretto poi a livello diocesano proveniente da una famiglia aristocratica tropeana lasciò le comodità del suo rango e abbracciò la povertà aiutando soprattutto le persone con disabilità gli anziani carcerati e tutti i poveri che andavano a bussare alla sua porta abbiamo deciso di ricordare quelle che noi vogliamo definire due grandi donne vibonesi lo abbiamo fatto in un clima di festa gioiosa nel ricordo perché riteniamo che questi momenti di condivisione e di ricordo siano utili per tutta la comunità anche per far comprendere e far capire coloro le quali si sono spese per un territorio difficile come il nostro che però apportando un grande contributo Titti D'Amico e Irma Scrugli riteniamo siano state due grandi figure ed era giusto valorizzarle in maniera degna così come è stato fatto questa sera per quanto invece riguarda Diana Recco la si è voluta presentare sotto una nuova luce non più protagonista di una sia pur forte azione vendicativa in nome dei sette martiri monteleonesi tra i quali suo padre e suo fratello quanto piuttosto come un'eroina di libertà che ha agito in nome della libertà bene supremo per il quale i monteleonesi nei secoli si sono sempre battuti fino all'estremo sacrificio una diversa chiave di lettura che è stata proposta dallo studioso giornalista Maurizio Bonanno alla luce di una nuova interpretazione di quel periodo storico a Monteleone un altro dei super appuntamenti della Calabria delle donne si è svolto proprio qui al liceo classico Michele Morelli dove grazie a una straordinaria relazione del giornalista Maurizio Bonanno e alla presenza anche del professore Tonino Fortuna abbiamo raccontato ai ragazzi quella che è stata un'eroina della libertà è importante far conoscere queste donne soprattutto ad un pubblico giovane che magari non ne ha mai sentito parlare la scuola è il luogo deputato ad accogliere questo festival perché è a loro che maggiormente ci rivolgiamo restituendo alle presenti e future generazioni personaggi che tanto e personalità che tanto hanno fatto per questa nostra regione che possono cambiare quello che è stato un racconto sbagliato che finora si è fatto nella nostra bellissima regione siamo giunti all'ultima notizia si è tenuto a Nicotera nel Vibonese un convegno nell'abito del progetto J-Wish Calabria Calabria culla dell'accoglienza e del dialogo interculturale dove si è parlato di ebraismo è un'occasione questa importante per l'autorevolezza dei relatori che segnano questa iniziativa e che si inserisce in un contesto storico particolare di grande attualità questo tema sia per i fatti che recentemente si sono registrati a Cutro sia per i fatti che si registrano su scala internazionale penso a quello che sta accadendo che è accaduto nei giorni scorsi in Israele che non dimentichiamolo è la culla dell'integrazione fra le diverse civiltà siamo qui per dimostrare quanto la Calabria i calabresi stessi siano portati all'accoglienza all'ospitalità la Calabria ospita nella sua regione tantissime piccole minoranze etiche e culturali e la sua storia è fatta di piccoli tasselli questo dimostra quanto la Calabria sia diversificata nella sua storia e quindi sia ricca e questo ci fa pensare quanto oggi vi sia una tendenza inversa a omologare un po' tutto anche le culture e questo impoverisce il tutto fino a quando la Calabria è stata diversificata culturalmente etnicamente è sempre stata ricca è stato un volano per l'intera Europa la cosa bella di oggi è la presenza massiccia di ragazzi ma anche di sindaci e amministratori delle comunità lo trovo bellissimo perché vuol dire che la Calabria si vuole riscattare anche attraverso questo percorso ebraico e dimostra anche l'apertura di questa gente questo convegno è importantissimo perché in un momento storico come questo la multiculturalità e la come dire le differenze le differenti identità che si compenetrano e che dovrebbero convivere serenamente senza pregiudizi senza forme di razzismo come a cui purtroppo assistiamo è fondamentale si è un tema attuale più che mai insomma la Calabria si è sempre dimostrata un porta aperto sia per l'accoglienza che per l'integrazione culturale ambientale e sociale quindi è già il terzo appuntamento che sostiene la Calabria Field Commission come patrocinante Sant'Embra del Cede è stata la prima nello scorso maggio dicembre a Reggio Calabria oggi Nicotera è un incontro importante con tantissime autorità e il finale sarà a Bisignano fra qualche mese beh innanzitutto a Nicotera che è un borgo straordinario bellissimo della nostra regione un borgo sicuramente da scoprire e poi a Nicotera che è anche città dell'accoglienza che ha nel suo centro storico una giudecca che è una cittadina che può essere considerata simbolo della capacità di accoglienza di noi calabresi termina qui la nostra informazione ora vi lascio con le notizie dall'Italia e dal mondo grazie per la vostra attenzione il giornalista americano del Wall Street Journal Evan Gerskovich è stato arrestato in Russia a Ekaterinburg corrispondente da Mosca e accreditato presso il ministero degli esteri russo è accusato di spionaggio in un comunicato l'intelligence sostiene che il reporter agendo su istruzione della parte americana raccoglieva informazioni coperte dal segreto di stato sull'attività di una delle imprete del complesso industriale militare russo il Wall Street Journal in una nota si dice profondamente preoccupato per l'incolumità del suo corrispondente che rischia fino a 20 anni di carcere non si parla di sospetti è stato colto infraglante così il portavoce del Cremlino Peskov ha commentato il fermo del giornalista americano migliora il quadro clinico di Papa Francesco ricoverato da ieri al Policlinico Gemelli di Roma per un'infezione respiratoria il direttore della sala stampa vaticana Matteo Bruni ha detto che il Papa ha riposato ben nella notte e che prima di pranzo si è recato nella cappellina dell'appartamento privato dove si è raccolto in preghiera e ha ricevuto l'Eucarestia fonti ospedaliere precisano che lo staff medico è ottimista ma il Vaticano non conferma ancora nulla sugli appuntamenti della settimana santa la messa del 2 aprile domenica delle palme dovrebbe essere celebrata dal vice decano del collegio Cardilanizio Leonardo Sandri tanti messaggi arrivati al Santo Padre il Presidente della Repubblica Mattarella oggi all'inaugurazione di un nuovo centro della Lega del Filodoro ha inviato gli auguri più affettuosi di una prontissima guarigione a Papa Francesco Nel suo secondo giorno di visita in Germania Re Carlo III ha parlato al Bundestag un grande onore lo ha definito il re d'Inghilterra nel suo discorso il primo di un monarca al Parlamento tedesco il sovrano britannico che ha alternato l'inglese e il tedesco ha sottolineato i forti legami culturali ed economici che ci sono tra i due paesi e ironicamente ha citato anche qualche rivalità come quella delle squadre di calcio poi parlando della guerra in Ucraina ha detto anche di fronte alle grandi sfide siamo fianco a fianco e abbiamo assunto insieme una leadership Re Carlo questa mattina aveva incontrato sempre a Berlino il cancelliere tedesco Scholtz in vista del suo viaggio a Pechino in programma la prossima settimana la presidente della commissione europea Ursula von der Leyen lancia un appello alla Cina nelle negoziazioni con la Russia sulla guerra in Ucraina il paese asiatico ha la responsabilità di svolgere un ruolo costruttivo nel promuovere una pace giusta detto la von der Leyen ma questa pace può essere giusta solo se si basa sulla difesa della sovranità e dell'integrità territoriale dell'Ucraina Silvio Berlusconi ha lasciato l'ospedale San Raffaele di Milano dove era ricoverato da lunedì per effettuare delle visite di controllo che si sono protratte per alcuni giorni a causa degli strascichi che gli ha lasciato il covid e per monitorare i sintomi cardiaci di cui soffre da tempo il leader di Forza Italia si sottopone in maniera programmata ad una serie di check up dopo mesi negli Stati Uniti Bolsonaro è tornato in Brasile l'ex presidente si era recato negli Stati Uniti due giorni prima dell'insediamento del presidente Lula da Silva saltando così il tradizionale rito del passaggio di poteri in Brasile Bolsonaro dovrà affrontare delle sfide legali inclusa un'indagine per stabilire se abbia incitato i rivoltosi a prendere d'assalto importanti edifici governativi una settimana dopo l'insediamento di Lula l'insediamento